Dopo l'esito favorevole al Senato, la Camera ha approvato in via definitiva la delega fiscale, con 184 voti a favore, 85 contrari e nessun astenuto. La delega dovrà essere esercitata dal Governo entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge. Tra le novità più importanti, la riduzione delle aliquote IRPEF da 4 a 3, previsto anche maggior impulso alla lotta all'evasione e all'illusione fiscale, con la semplificazione del sistema tributario e la revisione degli adempimenti dichiarativi e diversamento per i contribuenti. Grazie a tutti.